Videocorso online. Yoga del mattino. 15 minuti al giorno. By Daniela Novati. Trasforma la tua mattina con 15 minuti di yoga al giorno e inizia la giornata con energia. Ogni giorno è pieno di opportunità. Dobbiamo solo essere pronti a coglierle e guidare la nostra vita. Spesso ci sentiamo sopraffatti da stress, lavoro e responsabilità. Ma 15 minuti di yoga possono fare la differenza. Sono Daniela Novati, insegnante di yoga, e voglio aiutarti a ritrovare benessere e equilibrio. Inizia la giornata con esercizi semplici per riconnetterti con te stesso e riaccendere la tua energia interiore. Non servono corsi costosi. Bastano 15 minuti al giorno per una settimana per vedere i primi miglioramenti. Alla fine del corso, sarai in grado di eseguire il saluto al sole, migliorando forza, mobilità e respirazione. Unisciti a me su corsi.it e trasforma le tue mattine con yoga, ritrovando energia e determinazione ogni giorno.